Si chiama Very Special Christmas, l'iniziativa organizzata quest'anno dal comune di Yelsey per il 27 dicembre. Una vitrina, questa l'intenzione, per mostrare a tutti i visitatori il meglio che il paese ha da offrire, dall'artigianato alla cucina all'arte. È un modo per visitare Yelsey. Si viene a Yelsey, si può andare nei negozi e avere degli sconti particolari, si possono gustare menù tipici del posto, pensati per quel giorno nei ristoranti di Yelsey. Si possono visitare mostre d'arte, si può andare al cinema che attrezzeremo per quel giorno, si può ascoltare musica dal vivo, insomma un modo per mostrarci nella veste migliore che caratterizza Yelsey, quindi l'elevata qualità nella realizzazione dei suoi prodotti, che siano essi gastronomici, artigianali o culturali.